ciao a tutti bentornati sul canale amo gli italiani Antonella fiordelisi è tra i personaggi più forti di questa edizione del grande fratello vip anche perché non è solita tirarsi indietro quando deve dire la sua il suo percorso però è concentrato anche su di un secondo aspetto ovvero quello sentimentale in queste ore a tal proposito è però emerso un clamoroso retroscena che rischia di metterla nei guai e che vede coinvolto anche edoardo donna maria Antonella fiordelisi ed edoardo storia complicata al gf nella casa più spiata d'italia Antonella ha conosciuto edoardo e tra i due in pochi giorni è esplosa la scintilla nonostante i tanti alti e bassi i due sono ormai una coppia a tutti gli effetti e come accade di consueto nei reality entrambi sono finiti al centro di voci indiscrezioni e soprattutto accuse c'è però un dettaglio che da qualche settimana tiene sotto scacco la loro storia e riguarda la giovane modella alcune settimane fa ha infatti fatto il suo ingresso in casa Gianluca ben in casa il suo ex ha voluto un confronto per chiarire alcuni punti ancora oscuri della loro storia il suo arrivo ha destabilizzato Antonella che si è detta addolorata e dispiaciuta per le sofferenze arrecate in diretta al suo ex c'è però chi sostiene che in realtà lei e ben in casa non si siano mai davvero lasciati questa grave insinuazione è arrivata in queste ore da Francesco Chiofalo anche lui un noto ex della Fiordelisi durante un'intervista ai microfoni di casa Pipola infatti dichiarato con Gianluca ci stava insieme. Se prendi i messaggi si sono scritti ti amo fino al giorno prima della chiamata del GF. Quando si è messa con Edoardo stava con due persone sono due co asterisco asterisco uti Antonella Fiordelisi e Gianluca scoppia il giallo fuori dalla casa. Secondo quindi Chiofalo l'ex spadaccina salernitana non avrebbe messo alcun punto alla sua frequentazione con Gianluca prima di fare l'ingresso in casa. Questo in parte spiegherebbe la reazione del diretto interessato che durante il loro confronto ha più volte chiesto ad Antonella di ammettere la natura dei suoi veri sentimenti. Un vero e proprio giallo quindi che rischia di mettere in crisi anche Edoardo Donnamaria in queste settimane alle prese con dubbi e pressioni sia interne che esterne alla casa. Adesso Alfonso Signorini potrebbe decidere di mostrare queste dichiarazioni ai diretti interessati e soprattutto chiedere ad Antonella l'ennesimo chiarimento. Inoltre, in queste settimane si è fatta sempre più insistente anche una voce che ha del clamoroso. Alcuni esperti di gossip hanno infatti segnalato il possibile ingresso di Benincasa come concorrente ufficiale. Un arrivo che senza dubbio potrebbe scatenare l'ennesimo terremoto. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Ciao!